Buongiorno a tutti quanti voi, buon martedì, martedì 19 novembre 2024. Prosegue questa settimana un avvio caratterizzato da un appuntamento politico importante perché è vero si è votato in due regioni quindi Emilia Romagna e Umbria ma quando ci sono questo tipo di situazioni è ovvio che ci sono delle vicende che riguardano poi gli equilibri politici dell'intero paese. Il centro-sinistra che torna a vincere alcune competizioni elettorali si riprende l'Umbria dove ha governato fino alla scorsa legislatura, legislatura che si è appena conclusa, il centro-destra. Mentre in Emilia Romagna si conferma il centro-sinistra, bene anche il partito democratico, tanta stensione purtroppo ma da registrare comunque una doppietta del centro-sinistra. Campolarco, chiamatelo come volete, insomma sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Questo è uno dei temi della giornata che l'agenda politica appunto porta avanti e che ritroviamo sulle prime pagine dei giornali anche con quelle che sono le ripercussioni di tutto ciò anche sugli equilibri politici nazionali. Equilibri politici nazionali che dipendono anche da un altro tema molto sentito, molto discusso in Calabria, ovvero l'autonomia differenziata. E di questo parleremo anche oggi, ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi, abbiamo analizzato la questione anche da un punto di vista giuridico del diritto, di quello che sta accadendo, oltre che da un punto di vista politico. Oggi se ne continua a parlare e se ne continua a parlare proprio perché ci sono delle questioni di tipo davvero politico da risolvere. Alleati distanti, titolo alla gazzetta che vedremo fra poco, ma insomma ci sono anche in questo caso ripercussioni politiche non da poco. E parleremo poi anche della questione internazionale. Di sanità, c'è arrivato il sì, è arrivato alla Camera il sì per la proroga al 2027 dei medici cubani in Calabria. Ne parleremo e avremo anche poi tante altre notizie che conosceremo, alcuni approfondimenti. Penso per esempio a Catanzaro, ciò che sta, tra virgolette, accadendo sul tema acqua potabile, da un lato l'amministrazione comunale, dall'altra Sorical. Le parole di Fiorita che andremo anche a sentire. Insomma tante questioni, poi anche lo sport, la cronaca, la politica della politica abbiamo già detto. Insomma ne parleremo nel corso di questa giornata, di questa edizione di Prima Pagine. Poi la giornata su 10 prosegue come sempre alla 14.30 con il nostro telegiornale. Io saluto e ringrazio Enzo Leonetti in regia e andiamo a vedere proprio l'apertura della Gazzetta del Sud. Poi in anticipo andremo a vedere anche i quotidiani nazionali perché lì rimbalza prepotente la notizia delle due regioni finita al centro-sinistra. Chiaramente ci sono le solite interpretazioni e anche di parte, ma insomma daremo spazio un po' a tutte le voci. Allora andiamo velocemente su Gazzetta del Sud. Autonomia, alleati, distanti. I toni accesi dopo lo stop della consulta e legge da riscrivere. Il governatore calabresi occhiuto al ministro Calderoli faccia un bagno di umiltà. Queste le parole, le dichiarazioni che sono arrivate ieri in giornata da parte del Presidente della Regione Calabria-Roberto Occhiuto nei confronti del Ministro Calderoli. Aumenta la tensione sulla riforma dell'autonomia differenziata. Le distanze fra gli alleati nel centro-destra si allargano con il governatore calabrese che attacca. Non è il massimo dire, io l'avevo detto, ma in questo caso posso dirlo perché ha invocato maggiore prudenza. Il Ministro Calderoli che festeggia assieme alla Lega perché non ha definito la legge incostituzionale un bagno di umiltà rispetto agli aspetti che devono essere approfonditi e sono stati trascurati. Dovrebbe pur farlo. Secondo il Presidente della Regione Calabria, adesso c'è una grande possibilità per il centro-destra e per il Parlamento nel suo complesso di approfondire questa legge. Nessuno ha dei pregiudizi verso l'autonomia differenziata. Il tema però resta l'attuazione, si legge, del titolo quinto della Costituzione, quello di cui si parla davvero tanto. A giudizio del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo la sentenza della consulta non avrà più senso portare avanti alcun referendum riguardo l'autonomia differenziata. Stiamo parlando di quel referendum che poi di fatto è stato anche promosso dalle forze, soprattutto di opposizione. Se ne era parlato qui in Calabria ma se ne è parlato un po' dappertutto e questo lo sappiamo. Sempre in prima pagina troviamo anche il tema legato alla vittoria del centro-sinistra alle elezioni. Chiedo scusa. Bene il centro-sinistra, Emilia Romagna e si riprende l'Umbria. Una doppietta fra le astensioni. Vola il Partito Democratico, male i 5 Stelle, dall'altra parte giù Fratelli d'Italia e Forza Italia a sorpasso, bis sulla Lega. Il centro-sinistra si legge ancora su questo spazio di Gazzetta del Sud che è doverosamente, possiamo dire, dedicato a un appuntamento elettorale importante, come abbiamo detto, non solo per le due regioni in sé, ma anche per quelle che possono essere poi le ripercussioni anche a livello nazionale, gli equilibri fra forze politiche, visto che se ne sta parlando anche in ragione dell'autonomia differenziata. Il centro-sinistra ti ha un filo di Romagna, andando ben oltre le previsioni della vigilia. Era favorita, ma a livello numerico probabilmente anche gli stessi esponenti del Partito Democratico non si aspettavano questi numeri. E poi soprattutto si prende anche l'Umbria, dove il risultato era decisamente meno scontato. Il PD esulta per le percentuali definite straordinarie dalla segretaria Elie Schlein, mentre il Movimento 5 Stelle, non è la prima volta che accade ultimamente, si lecca le ferite per un risultato ancora una volta deludente nei territori. Anche in questa occasione è pesata la disaffezione degli elettori. La tornata elettorale, seppur in due giorni, quindi è stata divisa in due giorni, proprio per dare maggiore possibilità agli elettori di potersi recare alle urne, così non è stato, è stata dominata, infatti si legge dall'assenzionismo. In Emilia Romagna, pensate un po', si è espresso solo il 46,42% degli aventi diritti. Un calo enorme del 21%, se si pensa che alle ultime regionali era andata al voto addirittura il 67%. Qui siamo al di sotto, come avete potuto leggere, siamo al di sotto appunto del 50%. E poco meglio è andato in Umbria, dove ha votato il 52,3%, comunque un dato ben al di sotto della precedente consultazione, dove l'asticella si fissò al 64,69%, quindi poco meglio, insomma, in Umbria, ma non benissimo. Uniti si vince, ha detto Ellis Schlein, che da Bologna, dopo aver festeggiato la vittoria chiarissima, sin dagli exit poll di Michele De Pascali, si è esposa da Perugia per celebrare l'exploit di Stefana Proietti, riuscita a strappare la guida della regione alla candidata uscente del governo di centrodestra dell'Umbria, Donatella, T6, e questo, da questo punto di vista, ha un valore sicuramente molto molto più particolare. Il commento dei Salvini, gli elettori hanno sempre ragione, certamente il PD è il vero vincitor della competizione, quasi doppiato fra l'Italia e la Romagna, ma questo lo si attendeva, 42,90 contro 23,80, ma molto avanti anche i numeri, a cui non era scontato, 31,08% dei dem contro il 19,49% di Fratelli d'Italia. Dati che andranno analizzati, intanto nel fronte dei 5 Stelle si pensa sempre più al Costituente. E questo, come lo vediamo, è anche l'apertura della Gazzetta del Sud per quanto concerne i temi di politica. Lo abbiamo accennato proprio poc'anzi, abbiamo anche un altro tema, adesso anche da trattare e da andare ad approfondire. Ci riferiamo, per esempio, ai temi legati alla questione acqua, alla questione idrica nel comune di Catanzaro. Sappiamo bene che ci sono stati dei problemi con la risorsa idrica a Catanzaro e fra poco andremo a sentire anche le parole del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. Andiamo intanto su Gazzetta del Sud, perché proprio su Gazzetta del Sud se ne parla. Questa è l'edizione di Catanzaro, Crotone, Vibo, Valencia e la Mezzia Terme. Emergenza idrica a Catanzaro. Fiorita non fa sconti a Sorical, ostaggi di una rete fatiscente. Completati inserati i lavori di riparazione della condotta idrica, ma dopo l'ennesima emergenza il sindaco Fiorita ha convocato una conferenza stampa con l'assessore Squillace per denunciare la situazione della rete idrica. Beh, non l'abbiamo detto, abbiamo anticipato, che avremmo ascoltato il pensiero di Nicola Fiorita proprio dalla via voce, dalle parole espresse dal sindaco di Catanzaro ieri sera. Eccolo, Nicola Fiorita, che ha convocato questa conferenza stampa su diversi temi, sempre riferiti alla questione acqua a Catanzaro, si è espresso proprio il primo cittadino. Sentiamo. La situazione è molto semplice. C'è stata una rottura della condotta Sorical, una rottura particolarmente gravosa e complicata, in una situazione impervia dove è difficile intervenire. Noi ci siamo attivati subito per seguire quello che accadeva, per richiedere le autobotti, per sollecitare la più rapida conclusione possibile. La riparazione è stata ultimata oggi intorno alle 15.10. Se non succede niente, salvo imprevisti, la situazione ritornerà in normalità domani mattina. Resta un dato che i cittadini catanzaresi non ce la fanno più, hanno continuamente problemi con l'acqua. Questa è, forse perdonatemi l'ironia, la goccia che fa traboccare il vaso. E perché i cittadini sono arrabbiati, io sono arrabbiato. Non è più possibile che Catanzaro sia in queste condizioni. Noi dipendiamo sostanzialmente da una condotta fatiscente, che per chilometri e chilometri attraversa le montagne, che è soggetta a rotture continue, che in qualche modo dipende dal fato se si rompe, dove si rompe e quando si rompe. Sappiamo solo che si romperà, perché queste rotture sono inevitabili distante la situazione. Allora noi siamo ostaggio di una situazione che va assolutamente risolta, perché non è più possibile che un capologo di regione dipenda da una situazione di questo tipo. So che non è facile, so che ci vogliono risorse, so che non sarà domani, ma tutte le istituzioni devono assumere responsabilmente questo problema, perché così non si può continuare. Io parlo sempre con Sorical, stiamo gestendo insieme l'emergenza, ma non è una questione che può essere sempre affrontata in maniera emergenziale. Non è che noi li ringraziamo per averci mandato gli autobotti, ma non è un autobotto in più o in meno che risolve il problema, come ringraziamo la protezione civile regionale. Non è la questione se riusciamo a ripararla in tre ore, in cinque ore. La questione è che non possiamo vivere in questo modo, in cui un diritto fondamentale, qual è quello dell'acqua, dipende sostanzialmente dalla fortuna allo sfortuna, da quello che accade un giorno. Noi abbiamo diritto a una condotta moderna, efficiente, messa a posto, abbiamo diritto ad avere l'acqua sempre, non quando riusciamo a riparare la condotta. A me sembra banale, ma evidentemente non lo so. A me sembra che se servono grandi risorse per il Sud, prima vengono i diritti essenziali e poi vengono le opere infrastrutturali che verranno disegnate su qualche libro da portare in giro. L'acqua è un bene essenziale. Fino a quando non avremo l'acqua, non so come si faccia pensare ad altro. Scusate, rientriamo subito in diretta. Stiamo controllando proprio alcuni contributi e alcune notizie che fra poco vi forniremo. Andiamo invece adesso avanti, perché stiamo verificando alcune notizie, andiamo avanti con le altre notizie contenute proprio su Gazzetta del Sud che riguardano temi nazionali e internazionali. Andiamo con la questione pace. Si spera, ma è più che altro quanto accade in Medio Oriente, ma anche fra Russia e Ucraina. Putin a Biden. Errore rischioso. L'Ucraina potrà usare i missili statunitensi a lungo raggio per colpire la Russia. Hezbollah in Medio Oriente apre al piano statunitense per il cessato del fuoco in Libano. E poi ancora, la ragazza uccisa da Turetta, Fondazione Cecchettini, il discorso di Valditara su violenze e migranti, scatena una bufera. Se ne è parlato tanto proprio nella giornata di ieri. E poi il decreto Paesi Sicuri, CSM, domani il plenum, per decidere sulla tutela nei confronti dei giudici attaccati dal governo. C'è sempre sullo sfondo questo tema con lo scontro, chiamalo così, la polemica a distanza fra magistratura e anche il mondo politico. Poi ancora, festa per il 26esimo compleanno, morto per la droga della risata. È successo nell'Eccese. Il gas inalato da un palloncino legale, economico e ormai popolare fra i giovani, il protossido di azoto. Il gas noto come la droga della risata, perché induce all'euforia, ha ucciso ieri ad Alessano nel giorno del suo 26esimo compleanno. Pierpaolo Morciano era con gli amici e ha inalato il gas da un palloncino e morto purtroppo per arresto cardiaco troppo elevata la dose. Poi Ercolano esplode una fabbrica di fuochi, anche qui una tragedia. Tre giovani perdono la vita al loro primo giorno di lavoro. Tre morti ieri nell'esposizione di un capannone adibito a deposto del legale di fuochi d'artificio Ercolano. Le vittime sono un diciottenne e due gemelle di 26 anni. Erano al primo giorno di lavoro all'interno del sito che era stato aperto lo scorso weekend in vista delle festività natalizie. Queste sono, come vedete, anche le notizie che arrivano dalle... Vediamo anche quelle diverse province calabrese tipo l'emergenza idrica, ma soprattutto dall'Italia e dal mondo. Fra poco approfondiremo i temi politici. Intanto la sanità, abbiamo anticipato la proroga al 2027 per i medici cubani, è arrivato il primo sì alla Camera, era un sì unanime in commissione. I danni del maltempo, viabilità dissestata, il borgo di Iacurso è ancora isolata. Come vedete, questi sono gli effetti dell'Alduvione. È una foto abbastanza emblematica rispetto a quelli che sono stati i danni del maltempo in quella zona della Calabria. Poi, annunciato al sindaco Voce, siamo a Crotone, nell'avvio della messa in sicurezza del castello dedicato a Carlo V, la fortezza è chiusa parzialmente. Abbiamo parlato di politica, abbiamo aperto anche citando quelle che sono state le elezioni ieri in Emilia Romagna e in Umbria. Chiaramente i quotidiani non possono non trattare l'argomento. Andiamo a dare un'occhiata fra pochissimo proprio ai giornali nazionali come vanno anche a trattare chiaramente in maniera abbastanza diversa fra loro perché di fatto sappiamo bene che ci sono poi diverse appartenenze politiche a cambiare, a far la differenza in tal senso. Allora andiamo velocemente a vedere un po' di quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera che diciamo commenta in maniera molto asettica doppia vittoria del centro-sinistra e riprende l'Umbria e si conferma in Emilia Romagna. Il PD avanza re tra la Lega tiene fratelli d'Italia. De Pasquale Proietti governatori, Schlein straordinario declino Movimento 5 Stelle e come vedete cala ancora l'affluenza un dato che abbiamo già raccontato e brevemente commentato e qui abbiamo il 56,8% in Emilia Romagna per il centro-sinistra più il Movimento 5 Stelle ed è un dato definitivo come definitivo il dato sull'affluenza 46,4% si ferma a circa 40% Elena Ugolini del centro-destra. Il centro-destra condonata da T6 il centro-destra uscente in Umbria arriva invece al 46,2% ma non basta perché Stefania Proietti termina al 51,1% a capo di una coalizione anche qui centro-sinistra del Movimento 5 Stelle l'affluenza un po' più alta ma ancora bassa 52,3% ci sono poi anche le altre notizie ma di fatto restiamo in questo momento sulla politica la Repubblica la vittoria del campo largo scrive Repubblica straordinario risultato dice Schlein del Partito Democratico Meloni perde per taglia scuola e sanità si va un po' nell'analisi e secondo chiaramente i commentatori di Repubblica la sinistra fa festa per i successi di Proietti in Umbria e De Pascale in Emilia Romagna sconfitti gli sciacalli dell'alluvione crollo dell'affluenza processo nel centro-destra tensione fra gli alleati la premiera Salvini abbiamo sbagliato candidature e si congratula con i neopresidenti poi c'è anche la frase shock di Valditara così definita la Repubblica sulla questione femminicidi ancora il messaggero la doppietta del centro-sinistra in Umbria eletta Proietti e in Emilia Romagna De Pascale ma l'affluenza vota meno di un elettore su due Schlein premiata l'unità complimenti di Meloni ai governatori collaboriamo dice Giorgia Meloni e poi ancora il mattino in primo piano perché qui siamo in Campania nella regione dove si trova Ercolano si parla della strage di ragazzi nella fabbrica abusiva esplode il deposito legale di fuoco d'artificio morte due gemelli di 26 anni e un diciottenne al primo giorno di lavoro e poi c'è anche spazio per le regionali vince il centro-sinistra in Umbria in Emilia Romagna Proietti e De Pasquale governatori Schlein decisiva l'unità crollo dell'affluenza vota meno di un elettore su due complimenti dice Giorgia Meloni ora collaboriamo rivincita Schlein avviso a Meloni alla stampa spostata più verso il centro-sinistra che titola così in relazione alla vittoria del centro-sinistra in Umbria in Emilia Romagna la segretaria del PD noi perno dell'alternativa alle destre l'affermazione dopo la sconfitta in Liguria volano i Dem crisi del Movimento 5 Stelle calo di Fratelli d'Italia tiene Forza Italia crolla la Lega e come c'è anche un'analisi che riguarda poi un'altra regione e il declino di Salvini Fratelli d'Italia ora vuole il Veneto e Conte deve cedere alla leadership di Elly il tempo è nato l'anti-Elli qui siamo invece all'altra parte doppietta del centro-sinistra vince in Umbria in Emilia Romagna e chiaramente chi non festeggia Conte crollo prima della costituente dal tempo ci spostiamo all'avvenire il PD trova l'ambo e scrive il quotidiano di ispirazione cattolica come vedete qui sono riassunti i risultati questi non erano neanche definitivi ancora in ambo i casi ma i numeri si avvicinano molto a quelle che poi sono quelle definitive che abbiamo visto riconquista l'Umbria con proietti e si conferma in Romagna i dem fanno il pieno di consensi mentre i 5 stelle sono in netto calo l'estensione è da record sul giorno doppietta del centro-sinistra che è un giornale diciamo anche vicino geograficamente alle regioni dove si è votato qui solo con i numeri 56,8 51,2 e le sultanze dei due nuovi governatori che di fatto andranno a governare chi in Emelomagna chi in Umbria il giornale che sappiamo essere molto spostato verso le posizioni del centro-destra vincono astensionismo e sinistra si mette in evidenza l'astensionismo i complimenti della Meloni e anche in questo caso si parla diciamo il titolo sembra essere anche abbastanza settico poi c'è un'analisi non è una scossa per Roma candidati non ideologici quasi a voler mettere distanza fra quella che è la leadership del centro-destra al governo rispetto a quanto ha accaduto in queste regioni due sberle alla destra dalle urne mezze vuote il fatto quotidiano analizza i due temi il risultato è l'astensionismo De Pasquale e Proietti vincono con alleanze ampie Meloni accusa Salvini e poi Libero festino di consolazione all'opposizione Schlein si sente già Premier ovviamente Libero che ha posizioni molto diverse il PD si conferma per l'ennesima volta in Emilia Romagna e recupera l'Umbria storicamente rossa dopo dieci sconfitte 16 alle regionali e la prova che il piano sta funzionando poi si parla anche di Landini ah no qui abbiamo la vicenda acqua Catanzara ecco il manifesto il PD traina la doppietta la sconfitta dalla destra in Umbria con Proietti De Pasquale a Valanchi in Emilia Romagna e poi educarne uno questa è la questione relativa al ministro Valditara bene questi sono un po' di temi che abbiamo raccontato proprio per l'importanza delle elezioni in queste regioni e quelle che possono essere chi ci crede chi no chi la pensa in un modo chi no le conseguenze anche sul voto e eventualmente al governo in Parlamento e anche gli equilibri fra le forze noi ci dobbiamo fermare fra pochissimo per la pausa ma prima approfondiamo un altro tema perché abbiamo visto poc'anzi su Gazzetta del Sud una notizia importante per quanto concerne la sanità la proroga dei medici cubani al 2027 chiaramente c'è ancora un primo sì alla Camera e un escursus che eventualmente proseguirà ma è giusto il momento di parlare un po' di sanità perché nei giorni scorsi e andiamo ad approfondire questo tema nei giorni scorsi si è svolta una manifestazione per la sanità nella Valle dell'Esaro sanità della Valle dell'Esaro che di fatto trova nell'ospedale Spock di Castrovillari il suo perno per certi versi la cartina di Tornasolo della sanità e anche lo stato di salute dell'ospedale di Castrovillari un ospedale per certi versi depotenziato e un ospedale per la quale si chiedono interventi lo chiedono il comitato delle associazioni che si stanno battendo hanno trovato modo di raccontare quelle che sono le posizioni ecco qui raccontare quelle che sono le posizioni appunto del comitato dell'associazione dei cittadini in riferimento all'ospedale di Castrovillari anche al direttore generale dell'ASP Graziano c'è stato un incontro sono state garantite alcune cose all'ospedale di Castrovillari poche secondo il comitato che si è riunito e ha coinvolto anche diversi amministratori della Valle dell'Esaro e del Pollino questa riunione si è svolta a Castrovillari andiamo a sentire le parole di Ferdinando Laghi che è consigliere regionale Giuseppe Angelastro che è un rappresentante proprio del comitato a difesa dell'ospedale di Castrovillari e poi sentiamo anche c'erano anche altri amministratori presenti anche un assessore del comune di San Marco Argentano che è un comune fra quelli privati tra virgolette del loro ospedale dal piano di rientro del 2009 da allora doveva esserci una riconversione in casa della salute e in casa di comunità che ancora non c'è stato e allora il contributo anche di un esponente di un'amministrazione è così penalizzata sentiamo i loro pareri poi andiamo in pausa e ci troviamo per la seconda parte noi siamo radicati molto sul territorio e la forza del comitato nasce dalla presenza popolare come si è visto nella manifestazione dell'11 di ottobre quindi è stato normale e doveroso per noi organizzare questa assemblea pubblica per dare conto alle persone di che cosa abbiamo portato a casa e qualcosa abbiamo portato a casa però in maniera ancora non soddisfacente per cui è assolutamente importante adesso che si sta redigendo l'atto aziendale non entrare nell'ottica del rattoppo dell'intervento in urgenza ma finalmente programmare una sanità anche per il pollino l'esaro e la sibaritide che sia paritaria non sia discriminatoria nei confronti delle popolazioni del centro nord della provincia di Cosenza c'è voglia di sanità la gente vuole sapere vuole lottare vuole conoscere vuole sapere come va e noi siamo qui per rendicontare quello che abbiamo fatto alla manifestazione scorsa per parlare ancora di sanità e per organizzare una nuova manifestazione perché alcune cose ci sono state non date ancora promesse però vogliamo essere trattati come tutti quanti gli altri quindi la sanità uguale per tutti gente del Pollino e di tutti i territori calabrese sì ci sono i rappresentanti delle amministrazioni di San Basile Saracena San Marco Argentano Mormanno insomma le istituzioni sono al nostro fianco perché evidentemente è un problema che è sentito a tutti i livelli oramai ringrazio il comitato che si è creato qui a Castrovillare per la difesa della salute per la difesa dell'ospedale di Castrovillare noi siamo molto sensibili a queste problematiche io qui rappresento l'amministrazione comunale di San Marco Argentano il quale membro appunto assessore della stessa perché anche a San Marco noi viviamo una problematica molto forte in materia di sanità noi abbiamo una struttura che da 14 anni stiamo cercando di che si realizzi quello che è sulle carte che però purtroppo ancora non ha non ha trovato nessuno sfogo quindi noi tutte le iniziative che si fanno a sostegno della problematica sanità noi siamo sempre presenti perché la sanità non ha colorazione politica stasera è un comitato noi siamo a fianco di questo comitato così come siamo a fianco di tutti gli altri comitati questo non è un qualcosa di voler pontare il dito contro l'attuale amministrazione regionale perché siamo consapevoli anche personalmente che il Presidente Occhiuto sta facendo un grosso lavoro le problematiche però sono tante e non possono avere una soluzione in tempi così rapidi e ancora sul tappeto ci sono tante problematiche quindi noi siamo qui per lottare per dare un aiuto un sostegno a questa iniziativa ma siamo qui anche per alzare la voce anche verso le esigenze della sanità nella Valle dell'Esero e San Marco Argentano è appunto il punto di riferimento di una popolazione di circa 60.000 abitanti Rientriamo in studio per la seconda parte di Prima Pagina che ci porterà direttamente poi al nostro telegiornato alle 14.30 quindi fra poco più di 25 minuti abbiamo diverse notizie che arrivano dalla mattinata e tra l'altro fra queste ce n'è una che abbiamo di fatto anticipato meglio abbiamo raccontato e ascoltando le parole del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorito ovvero l'erogazione idrica a Catanzare allora andiamo su ansa.it ansa Calabria normalizzata da stamane l'erogazione idrica riaperte scuole uffici resta l'allarme per la vulnerabilità della rete è tornata a scorrere dalle prime ore di oggi l'acqua nei rubinetti dell'abitazione di Catanzaro interessata alla crisi idrica che da sabato notte a causa di una rottura sulla condotta di Santa Domenica ha interessato gran parte del centro urbano provocando notevoli disagi riaperte regolarmente da scuole cittadine rimaste chiuse per la giornata di ieri già nel pomeriggio di ieri appunto il sindaco Nicola Fiorito aveva incontrato i giornalisti assieme all'assessore alla gestione del territorio Pasquale Squillace tracciando un quadro della situazione dando l'annuncio rimane all'allarme tra gli amministratori e i cittadini per le condizioni di particolare vulnerabilità si legge delle infrastrutture idriche che servono alla città capoluogo non nuove a problematiche del genere e che dovrebbero essere rimesse a nuove per evitare il riproporsi di situazioni di così pesante emergenza e questo per quanto concerne la questione idrica andiamo con altre notizie rapine in uffici postali del Cosentino arrestati presunti autori in manette due persone di 50 e 36 anni indagato anche un 27enne due persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Paola perché sarebbero ritenute responsabili di tre rapine compiute ai danni di altrettanti uffici postali della costa tirrenica Cosentina fra il mese di giugno e settembre del 2022 una terza persona di 27 anni risulta al momento indagata per lo stesso reato i provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Paola su richiesta della locale procura gli episodi si erano verificati si specifica anche qui nei comuni di Acquapesa precisamente Acquapesa Marina Fiume Fredo Bruzio e Longobardi Marina quindi tutti i comuni del medio Tirreno Cosentino distanti qualche chilometro uno dall'altro e poi a Cosenze arrende ancora la cronaca due arresti per violenza di genere minacce arrende e a Cosenze in carcere un 47enne e domiciliari un 45enne due persone arrestate per violenza di genere minacce atti persecutori in altrettante distinte attività nel Cosentino a Cosenze i militari della compagnia sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto giunta da una donna che in base a quanto accertato era stata precedentemente aggredita e minacciata con un coltello dall'accompagno convivente di 47 anni che è stato poi arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia in flagranza di reato la vittima purtroppo è dovuta anche ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale ed è emerso che avrebbe subito in passato violenze e vessazioni da parte del compagno altri episodi a rende dove si è passati dal divieto di avvicinamento della persona offesa con gli arresti domiciliari il tutto ai confronti di un 55enne l'uomo si è reso responsabile in più occasione di atti persecutori e pur essendo per lui essendo scattato il divieto di contattare la vittima le avrebbe inviato un ulteriore messaggio di minaccia ingenerando nella donna un fondato timore per la propria incolumità e questo accade a Cosenza e a Rende ci sono poi le parole del ministro Bernini che riguardano il mondo universitario dal ministero 993 mila euro ad Atenei Calabresi risorse destinate a servizi benessere psicologico degli studenti il ministero dell'università della ricerca che ha stanziato 993 mila 972 euro per promuovere iniziative a favore dell'inclusione degli studenti con particolare riferimento all'attivazione e al potenziamento dei servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza e gli Atenei beneficiari si legge nella nota sono l'Università della Calabria l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria secondo il ministro dell'Università Anna Maria Bermini e Bernini stiamo proseguendo il potenziamento della cassetta degli attrezzi che mettiamo a disposizione dell'Università e delle AFAM affinché garantiscano agli studenti gli strumenti necessari per affrontare delle situazioni dei disagi in maniera tempestiva il nostro obiettivo è creare le condizioni per prevenire le emergenze e assicurare a tutti un percorso di crescita personale non solo una gara di performance e poi in totale risorse destinate dal MUR attraverso il fondo ordinario e il fondo di finanziamento ordinario ammontano a 35 milioni di euro e in questo caso come abbiamo detto circa un milione andrà alla Calabria ai tre Atenei da poco elencati e poi un'ultima notizia alla mattinata Union Camere Calabria non c'è solo la cronaca c'è anche l'economia c'è anche il Made in Italy siglato un'intesa con il Ministero del Made in Italy aiuta e innovazioni per il rilancio delle imprese della Regione chiaramente delle calabresi e celebriamo due incontri due eventi il primo è il rinnovo delle convenzioni con il Minit che sarebbe il Ministero appunto per il Made in Italy e che è qui rappresentata l'ingegnere Sofia appunto dirigente del Ministero e la possibilità attraverso questo primo incontro informativo e formativo del piano 5.0 che metta al centro naturalmente delle imprese attraverso il sistema delle Camere di Commercio e del Ministero per dare possibilità alle stesse di avvicinarsi alle misure europee che derivano direttamente dal PNRR queste le parole di Pietro Antonio Falbo che è presente in un Camera Calabria pronunciata all'analisi a termine in occasione di questo convegno piano transizione 5.0 strumento pubblico di una nuova politica industriale che quindi come abbiamo elencato attraverso anche una dotazione di 6,3 miliardi si annunciano finanziamenti per le imprese attraverso appunto l'impegno di Union Camere delle Camere di Commercio e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sempre molto molto importante bene questo per quanto concerne le notizie che arrivano dalla mattinata non abbiamo dato però un'occhiata ancora visto che parliamo di giornali spesso vediamo le prime pagine oggi ne abbiamo visto tante ma soprattutto nazionali vediamo quelle calabresi che rimangono e poi andiamo a fare anche degli altri approfondimenti iniziamo dal quotidiano del sud che oggi ancora non avevamo raccontato in qualche modo sanità al caso factoring la transizione per un debito quasi tutto pagato Crotone credito da 561 mila euro a BFF Bank nel 2021 l'ASPE non si oppose e pagò oggi l'accordo per residuo da 56 mila euro con sconto degli interessi e questa è la notizia a questo punto poi vediamo anche le altre notizie che troviamo sul quotidiano che ci dà l'occasione per tornare a parlare di sanità nella finale della prima parte di prima pagina abbiamo ascoltato le voci della storia di chi cerca di difendere la sanità nell'Esero nel Pollino nella Sibaritide nella zona norte della provincia di Cosenza poi c'è anche l'ospedale annunziata di Cosenza che è un po' il fulcro della sanità cosentina da qui passano insomma sappiamo bene che è l'ospedale hub l'ospedale di riferimento si attende tra l'altro alla costruzione del nuovo ospedale ma questa è un'altra storia allora restiamo a questo punto in casa annunziata parlando ancora di sanità e andiamo a capire andiamo a cercare di capire di cosa stiamo parlando nel prossimo servizio non lascia adito a dubbi direttore generale dell'azienda ospedaliera sulle voci circolate nei giorni scorsi circa un suo possibile allontanamento dall'annunziata di Cosenza concetto che è ribadito a margine dell'assemblea di questa mattina dove nella biblioteca del presidio ospedaliero Bruzio le sigle sindacali dell'area dirigenziale sanità hanno illustrato i punti del contratto integrativo nazionale approvato ad ottobre avevo detto due anni fa che ero qui per amore della terra per scelta e perché c'è un presidente insomma che ispira non ho cambiato di un millimetro andiamo avanti con questo bellissimo progetto integrazione con l'università e per chi insomma piace questo progetto per i prossimi tre anni staremo insieme quindi resta esattamente poi a sostegno della sua tesi che intende proseguire il suo lavoro nel Lab Cosentino anticipa i risultati raggiunti che saranno resi pubblici in una conferenza stampa a fine anno credo che l'annunziata abbia uno stato di salute positivo un andamento positivo ce lo dicono i dati rispetto ai quali a fine anno insomma li mostreremo alla collettività perché giusto così in trasparenza daremo conto del nostro lavoro e sulle novità annuncia le novità sono sempre in corso perché adesso abbiamo un nuovo reparto che inaugureremo di chirurgia toracica è da poco il reparto ginecologico è da poco il reparto nuovo di oncologia al Mariano Santo insomma è un divenire continuo perché c'è molto da fare nuove attrezzature per gennaio avremo un'attacca al punto del corso per renderlo completamente autonomo bene questa la situazione all'ospedale annunziata di Cosenza abbiamo sentito anche il direttore De Salazar che resterà tale chiudiamo adesso il tema sanità ritorniamo sul quotidiano del sud perché abbiamo ancora altro da mostrare e allora diamo un'occhiata ancora alla prima pagina del quotidiano perché ci sono le altre notizie dell'acqua la questione acqua la vicenda acqua a Catanzaro che per il momento si è anche chiusa almeno per quanto riguarda questa emergenza abbiamo dato anche la notizia alla mattinata abbiamo sentito la rabbia del sindaco Fiorita città ostaggio di una condotta effatiscente quindi si risolve solo l'emergenza ma poi ci sono altre questioni l'operazione traffico di droga arrestati a Milano in Arcos dell'Andrangheta e poi invece un'altra operazione a Roma 35 indagati carburanti erano a fare del clan Mazzaferro e poi ancora la politica il caso gentile scutellà le anomalie le segnalo stesso comitato di verifica qualcuno faccia chiarezza dice scutellà che lo ricordiamo rischierebbe lei di perdere il posto perché nel caso in cui Andrea Gentile dovesse vincere il collegio unilominale con il ricorso lo vincerebbe ai danni di Anna Laura Ricco ma Anna Laura Ricco prenderebbe il posto nel plurinominale quindi a perderlo essendo posizionata più in basso nel listino sarebbe Elisa scutellà che diventerebbe quindi la prima dei non eletti Calderoli faccia un bagno di umiltà spazio anche alle parole del Presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto sull'autonomia differenziata commenta le parole colorite del Ministro delle Opposizioni il Presidente invoca prudenza la riforma non appaia divisiva per il Paese Stila a proposito di sanità da anni senza un medico di base Tortura tre cani uccisi hanno cercato di bruciare le carcasse poi un convegno sull'intelligenza artificiale la vera sfida è umana il Conservatorio Tchaikovsky sbarca Osaka per l'Expo 2025 e infine non infine abbiamo volutamente trattato questa notizia proprio al termine il riscatto di Cutro possibile grazie alla ribellione dei clan e allora Cutro momento dell'incontro organizzato al corso di pedagogia dell'antimafia e allora la ripartenza di Cutro all'Università della Calabria se ne è parlato ma insomma Cutro che è diventato un po' la bandiera lo sappiamo rispetto a quelle che è anche un qualcosa un luogo simbolo ecco dell'emigrazione dei rischi del per la strage che si è consumata purtroppo più di un anno e mezzo fa e adesso se ne è parlato appunto di Cutro e della rinascita di Cutro ma anche di tanti altri temi all'Università della Calabria Parlare ai giovani per educarli alla legalità con questo scopo nasce il progetto Cittadinanza e Costituzione per il riscatto di Cutro un primo incontro con il procuratore della DDA di Catanzaro Vincenzo Capomolla un'alleanza educativa fra istituzioni pensata insieme al Dipartimento di Cultura Educazione e Società dell'Università della Calabria attraverso il corso di Pedagogia dell'Antimafia coordinato da Giancarlo Costabile Il rispetto delle regole conviene a tutti perché nel rispetto delle regole si può garantire il diritto di ciascuno non trasformare il diritto in favore e quindi ciò che ci spetta in termini di giustizia in quanto riconosciuto dalle norme ci deve essere concesso e noi stessi dobbiamo rispettare le norme per non avere atteggiamenti di prevaricazione nei confronti di nessuno Comune, scuola e università insieme per raccontare un'altra storia del territorio crotonese identificata da parole generative di speranza e non di rassegnazione Credo che possiamo far incidere nella nostra piccola comunità di far vivere meglio tenendo conto che ognuno di noi ci deve mettere del proprio Serve un impegno condiviso e responsabile prendendo in prestito le parole di Papa Francesco per cambiare il mondo dobbiamo cambiare l'educazione L'anno scorso nella classifica della vivibilità delle città d'Italia oggi eravamo ultimi oggi siamo abbiamo recuperato sei posti siamo al centunesimo posto questo ovviamente è grazie agli amministratori ma grazie a voi ragazzi che siete sempre il meglio di noi Bene questo è quanto accaduto all'Università della Calabria vediamo anche altri due quotidiani calabresi perché siamo arrivati quasi al termine il giornale di Calabria per esempio per far capire un po' quelli che sono i temi della giornata la vicenda acqua a Catanzaro che è un tema molto molto importante anche il saluto l'ultimo saluto a Pino Iacino per la città di Cosenza l'ex sindaco e occhiuto a Calderoli ora sull'autonomia è necessario fare un bagno di umiltà e questi sono un po' gli argomenti del giorno e a livello nazionale abbiamo già parlato le elezioni regionali centrosinistra che vince sia in Emilia che in Umbria poi qui abbiamo anche altre notizie l'ex stalking all'ex compagno braccialetto elettronico per una 31enne accerva la festa della Castagna una risorsa a celebrare e valorizzare ma a proposito di giornali calabresi prima di spostarci sugli online per chiudere ancora autonomia differenziata la consulta ha bocciato un'idea sbagliata allo Stato italiano il progetto autonomista non può stravolgere il dettato costituzionale di un paese unito e le parole di occhiuto nei confronti di Calderoli questi sono un po' ciò che oggi campeggia sulle prime pagine dei giornali calabresi mentre sui nazionali l'abbiamo detto la questione elezioni possiamo lasciare adesso i quotidiani e dedicare quest'ultima parte di prima pagina alle home page come sempre accade dei quotidiani web iniziamo con Repubblica.it processo Reggeni il testimone ho visto Giulio bendato sfinito dalle torture l'udienza per la morte di Giulio Reggeni e potrebbe essere questo un testimone davvero chiave Kiev lancia i primi missili statunitensi contro la Russia e Putin cambia regola su risposta nucleare il centrodestra alla prova l'Italia si ferma contro il governo domani la sanità nel weekend i treni il 29 sciopero generale queste le prossime date nella contestazione al governo e gli scioperi e su codice della strada via il rush finale multe più alte la novità del blocco anti alcol sull'automobile il governo statunitense tra subito sulla conferma di Gaetz alla giustizia rivelazioni partecipò a una decina di orge insomma questa è una questione che riguarda il governo degli Stati Uniti chiudiamo con il messaggero punto it Russia colpita commisse statunitensi per la prima volta Putin cambia la dottrina nucleare cosa vuol dire Zelensky colpito dormitorio scolastico dieci morti melone dagli Stati Uniti risposta ad aggressività russa da noi altra scelta Putin non vuole trattare per la pace Toscana ma lui in autostrada bambino di nove anni muore mentre in viaggio con i genitori verso Arezzo e poi ancora le testimonianze di Giulio e Giulio Reggeni bendate sfinito dalla tortura due carcerieri lo portavano a spalla il racconto di un testimone attenzione perché arriva il freddo al freddo artico in arrivo le gelate meno 8 gradi al nord 4 gradi a Roma ma il tempo è neve a bassa quota vedremo se sarà così anche al sud Stasce derubata a Milano via dal sud lo zeno con 4 orologi pc effetti personali lui è stato un incubo il trucco del gatto e poi Michele De Pascale terra ferita patto sull'alluvione il nuovo governatore delle Mille Romagni Stefania Proietti invece viva l'Umbria tornata in mano agli Umbri e queste le reazioni dei due nuovi governatori che sono usciti vittoriosi dalle competizioni elettorali di questo fine settimana noi ci dobbiamo fermare sì vedo l'orario e l'orario di dare spazio al nostro telegiornale ci troviamo domani sempre alle 13.30 buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.